Avendo visto la superficialità con cui non solo il Governo non ha recepito le richieste che venivano da più parti politiche e anche da organi istituzionali di spostare nel tempo, almeno al 2018, il recepimento dei meccanismi del bail-in per la salvaguardia del sistema bancario, ha addirittura anticipato in parte questo meccanismo facendo un blitz notturno sostanzialmente, grazie al quale i risparmiatori dal venerdì si sono trovati a lunedì completamente derubati dei loro risparmi, risparmi di una vita, risparmi che molto spesso danno addirittura il senso di una vita, perché si vive, si sacrifica in funzione di un piccolo capitale che può servire per le cure mediche, può servire per far studiare i figli e si sono trovati completamente azzerati e quindi privati di questo risparmio che è anche senso della loro esistenza.